Penultima giornata d'andata del campionato di promozione per il Real Città di Paternò dovrebbe esserci la trasferta al Dell'Etna di Adrano. Usiamo il condizionale perché probabilmente la gara non sarà giocata e questo perché l'Adrano difficilmente si presenterà. La formazione adranita è in fortissima crisi economica, tutti i giocatori sono andati via, compreso il tecnico Anastasi. E già settimana scorsa nella trasferta con l'Atletico Catania gli adraniti hanno marcato visita. Derby dunque fantasma quello di domenica, al massimo l'Adrano si presenterà con la formazione Juniores. I paternesi dunque potrebbero trascorrere una domenica in tutto relax, portando a casa i tre punti a tavolino senza scendere in campo. Se il derby con l'Adrano dovesse saltare, la Rosa potrebbe preparare con calma e tranquillità il ritorno di Coppa con l'Atletico Catania di mercoledì, match rinviato già due volte. Da monitorare la situazione infortunati, Campanella ha rimediato quattro punti in testa nel match con il Dagata, mentre dai donne alle prese con problemi muscolari. Il primo potrebbe essere della partita già mercoledì, per il secondo invece si procederà con relativa cautela, anche perché tra una settimana il campionato si fermerà 15 giorni per la pausa natalizia. Adrano real città di Paternò, qualora si disputerà, sarà diretta dal signore Emanuele Orlandi di Siracusa, coadiuvato dagli assistenti Mario Nicotra di Catania e Salvatore Zocco di Siracusa. La terna arbitrale aspetterà i 45 minuti canonici prima di decretare il tipice fischio finale, con la Lega che poi darà partita vinta 3-0 agli ospiti.